salve a tutti signori e bentornati sul mio canale sempre per la rubrica avido legge cose oggi torniamo con svevo ruggeri settimana scorso ho avuto un problemino tecnico quindi non sono riuscito a caricare il quarto video quindi il quarto spezzone dell'opera di svevo ruggeri che è il palazzo delle ombre che ovviamente vi invito sempre a dare un'occhiata a questa opera e a comprare quindi io oggi vado a leggervi il quarto estratto che parla di marta quindi non vi dico molto di lei anche perché in realtà ce la introduce l'autore e quindi andiamo a conoscere un altro dei personaggi principali di questa di questa storia penso siano tre personaggi principali e vanno a intrecciarsi le loro storie in qualche modo io non ho ancora letto tutta l'opera anche se non vedo l'ora quindi a breve la leggerò tutta io quello che so è quello che sapete anche voi tramite i miei estratti e per ora è molto molto interessante e ha un colore veramente particolare che non si vede molto spesso nello scenario italiano ma andiamo a sentire la mia lettura e poi commentiamo insieme quarto brano marta roma è bellissima marta lo sa ma ogni volta che decide di fare una passeggiata in centro trova sempre nuove conferme per lei va girata da soli oppure solo con la sua macchina fotografica una compagna divenuta ormai imprescindibile le piace gironzolare per i vicoli della città ogni volta che ci ripassa scopre qualcosa di nuovo e adora immortalarlo di rado usa lo smartphone preferisce la fotocamera ama inquadrare i soggetti scegliere i posti migliori la giusta angolazione e cogliere la luce più adatta di rado usa lo smartphone preferisce la fotocamera ama inquadrare oggetti scegliere i posti migliori la giusta angolazione e cogliere la luce più adatta in funzione della resa finale gira con uno zainetto in pelle tutto graffi e abrasioni è comodo è utile e ha la capacità di contenere tutto ciò che la rende felice da alcuni anni ha abbandonato l'idea di vestirsi alla moda e con capi firmati in favore di un guardaroba semplice delle volte etnico e rigorosamente usato è un assidua frequentatrice dei mercatini improvvisati e boutique di abiti di seconda mano è un modo tutto suo per dire mart non si cura dei formalismi con i suoi 22 anni crede con forza che la società guardi i suoi giovani figli con occhi diversi e con attenzione particolare ed è per questo certa che lanciare messaggi sulle proprie convinzioni possa davvero interessare qualcuno e perché no lasciare il segno è piena di vitalità e sogni inespressi perché ancora confusi ma la loro potenzialità e il semplice fatto di sentirli vividi le dà forza di vivere con intensità ogni momento eppure non sono tutte rose e fiori e non lo sono nemmeno mai stati con i suoi lunghi capelli castanno ramati gli occhi verdi e una silhouette invidiabile che nasconde sotto indumenti larghi e trasandati mart ha delle angosce che ogni tanto prendono il sopravvento si è iscritta a psicologia perché sentiva di esserne attratta ma non ama l'università intesa come luogo da frequentare con costanza né l'idea dell'obbligo di dover dare gli esami subisce la pesantezza di quelle regolari e discutibili verifiche per giungere a una meta che per lei non ha nulla di ambito con la fine del licco aveva assaporato la liberazione dall'incubo delle interrogazioni e dei compiti in classe e ritrovarsi imbrigliata in una sua evoluzione seppur con evidenti differenze la mette a disagio laurearsi in psicologia non è una sua priorità ma è ciò che la sua famiglia si aspetta da lei e questa aspettativa non fa altro che soffocarla ma c'è dell'altro marta vive un dissidio che non riesce a comprendere men che mai a padroneggiare c'è un luogo oscuro che all'improvviso prende il sopravvento come un velo che l'avvolge e delle volte diviene pesante come fosse piombo una sensazione di freddo che pare giungere dalle ossa un nucleo metallico custodito dalle viscere che non sa scaldarsi mai quando sopraggiunge può capitare che le metta ansia che poco dopo scivola via e la spinge a compiere azioni come quella di fotografare un obiettivo invece di un altro altre volte e si stende addosso pretendendo ogni attenzione per sé le oscura il volto i pensieri ed è gravosa come una coperta bagnata gocciolante vuoto e miseria qui in questo breve spezzone abbiamo conosciuto marta ora io vi ricordo sempre comunque che potete saperne di più assolutamente in maniera autonoma acquistando il libro che trovate qui in descrizione trovate il link in descrizione al video qua sotto e niente se volete potete anche contattare lo scrittore o cercare lo scrittore che è Svevo Ruggeri lo trovate su tutti i social su instagram su facebook eccetera allo stesso modo vi invito a iscrivervi al mio canale a seguirmi sui vari canali social a commentare questo video e dirmi cosa ne pensate sia di questo format che di questa lettura e comunque commentate anche con eventuali critiche costruttive o qualunque cosa vi venga in mente quindi non dimenticate il mi piace il commento e ci vediamo molto presto per quest'ultima parte di questi estratti del palazzo delle ombre di Svevo Ruggeri grazie a tutti i signori e ci vediamo presto un bacio e grazie per sostenermi per essere sempre con me grazie